che stai facendo niente sto sto preparando per un piccolo esercizio è una specie una specie di gioco hai barato ieri scappare non vale devi sentirla davvero l'erba camminerai da questa pietra a questa pietra fa paura eh sei pronta vieni ti do un passaggio ti porto alla prima pietra non cedere ci siamo metti il piede a terra ti tengo ti tengo sono qui con te non ce la faccio si che ce la fai puoi farcela e ce la farai come ce la farò io cammineremo insieme cammineremo insieme ok allora ci siamo respira si ora scendi dalla pietra devi camminare sull'erba dai scendi visto che è successo niente continua a respirare continua a respirare ti tengo io si stai andando benissimo lo vedi respira 5 5 e 5 sei quasi arrivata sei quasi arrivata brava stai andando bene ci siamo ci siamo ecco qua ce l'hai fatta hai imparato qualcosa è così sei stata brevissima sei stata brevissima sei stata brevissima stai andando stai andando stai andando Grazie.